Una manifestazione molto importante per Ascoli perché stiamo lavorando molto sulla promozione della città e quindi connettere Ascoli nel mondo e il mondo ad Ascoli. Quindi è importante la Mille Miglia per promuovere la nostra città. Nello stesso tempo è un messaggio importante per l'Italia intera, per quel momento difficile che sta vivendo. Dobbiamo gestire l'emergenza, però la Mille Miglia passando in tutte le città e unendo l'Italia dà un messaggio ben chiaro. Nel dopoguerra proprio la Mille Miglia ha ricostruito l'Italia sviluppando il turismo e l'industria soprattutto dell'automotive e quindi in questa direzione dobbiamo ricostruire una nuova società dove l'uomo è al centro e attorno alla sua comunità attraverso lo sviluppo del nuovo turismo e della nuova industria. Ascoli sarà tra le destinazioni più importanti in Italia, quindi accogliamo le persone che vorranno venire qui ma in questo momento siamo concentrati a gestire l'emergenza. Però questa iniziativa è molto importante per noi.